Si chiama Vivi Santo Spirito, l'app che fornisce sconti ai consumatori del quartiere, spendibili all'interno degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa. Un progetto innovativo per il territorio di Santo Spirito, ma l'auspicio è estenderlo a tutto il quinto municipio. Per entrare nel network e iniziare a risparmiare basta scaricare l'app. L'iniziativa è stata presentata alla platea degli esercenti del quartiere di Bari, ma è importante ora la fase divulgativa per far conoscere le opportunità ai cittadini e favorire la crescita delle attività locali. Il principio è quello di fare rete per conservare la tradizione con i vantaggi dell'innovazione. L'idea è di Actes, l'Associazione del Commercio e Turismo e Servizi per Santo Spirito, Delegazione di Confcommercio Bari e Barletta Andrea Etrani. Un'applicazione che abbiamo creato come una vetrina di tutte le attività che fanno parte di questo circuito e anche mettendo sempre al centro il consumatore, quindi cercando di utilizzare una formula di cashback per dare degli sconti immediati sull'acquisto. Questo ovviamente è collegato in rete con tutte le attività. Questo ovviamente favorisce il cliente e lo fidelizza con tutte le attività che fanno parte di questo circuito. Ovviamente questa applicazione ha tante potenzialità perché è una vetrina dove possiamo comunicare tutte le informazioni del territorio oltre che le nostre personali.